ci troviamo con Andrea Spinelli un carissimo amico, giornalista di QN veterano della sala stampa di Sanremo la chermessa è finita adesso c'è la parte dei saluti da parte della Mara Venier con Domenica e Andrea è lì sul posto volevo Andrea se ci dai un po' quelle che sono le tue impressioni al termine di questo festival delle cose che ti sono piaciute e di quelle che non ti sono piaciute certo ma guarda il festival è stato come hai visto pieno di canzoni troppe sicuramente però molto veloce perché erano tantissime a tempo 20 su 30 e quindi ovviamente poi Amadeus ha dato un bel dinamismo l'unica cosa è che ovviamente il festival si fa con quello che c'è e al di là delle promesse forse mancava un pezzo veramente memorabile forse mancava la fai rumore mancava la brividi ma mancava anche la zitti e buoni se vuoi quindi ecco questo forse è stato un po' il neo di questo festival c'era molta medietà mancavano pezzi brutti decisamente pezzi modesti però mancavano anche pezzi molto belli ecco secondo me mi è sembrato che hanno anche quest'anno in maniera molto più calzante la ricerca del tormentone della dance sì esatto che è stato premiato fino a un certo punto perché se voi pensate a The Colors che è un pezzo che poteva uscire tranquillamente ora ma uscire anche a giugno per l'estate da spiaggia a ombrellone diciamo così se pensate al pezzo di Emma ecco diciamo che sì era pieno c'erano questi pezzi molto ritmati molto incalzanti che però poi alla fine hanno ricevuto un interesse relativo almeno stando alle classifiche anche se poi le classifiche valgono quello che valgono perché poi quello che vale sono gli streaming quello che vale soprattutto è la memorabilità del pezzo cioè quanto il pezzo resterà nella memoria collettiva Geolier Geolier sicuramente ha un pezzo interessante non trascendentale a mio avviso però indubbiamente è il personaggio di punta della musica urban rap di questo momento ha fatto le sue cose secondo me e io sono di quelli che pensano che la sera delle collaborazioni avrei preferito altro sinceramente per cui riguarda la sua performance però dico che è andata bene così d'altronde lui è arrivato con un televoto fortissimo ma allo stesso tempo c'è da dire che i voti sono di tre giurie diverse e quindi le giurie fanno le giurie e poi una volta sommati i voti viene fuori il vincitore certamente un 60% di televoto che viene poi confutato dalle altre due giurie ma sta nella logica delle cose ricordo che le giurie sono state introdotte perché per cercare di correggere il fatto che vincessero dei personaggi più di pancia che di testa diciamo così per quanto riguarda il tipo di musica gli ospiti no non voglio dire ovviamente scusami ma non voglio dire che la musica di Joliet che il pezzo di Joliet fosse un pezzo di pancia voglio dire questo gli ospiti chi salvi e chi butti ma gli ospiti ma gli ospiti del venerdì dici no gli ospiti in generale da travolta allora a me sono piaciuti gli ospiti dei duetti quelli quegli altri così magari Russell Crowe perché è una persona molto simpatica molto disponibile ma vedremo poi quest'estate all'opera ecco in Italia però per quanto mi riguarda per il resto francamente non sono rimasto no travolta sinceramente poi insomma così poi campioni campionesse eccetera però è tutto contorno ecco così mentre per quanto riguarda i due tanti sicuramente diciamo che abbiamo visto un vecchione notevolissimo che chiaramente con cui il povero Alfa è riuscito a reggere la carica è stato bravo è stato carino però insomma è ovvio che è stato un pochino messo in un angolo dal carisma dalla forza interpretativa di Roberto per quanto poi riguarda gli altri ospiti interessante la rappresentante di lista anche se diciamo che il duetto con Ananisa non è stato perfetto molto spiritosa la mannoia si è rimostrata una banda intelligente finalmente ha chiuso definitivamente una cosa che si trascinava da sette anni questo così questa leggera amarezza per il secondo posto eccetera e quindi è stato molto carino da parte sua duettare con Gabbani che ha fatto Gabbani e l'ha fatto bene questo sì poi dopo non mi è piaciuto invece il duetto di Skin bravissima meno i Santi Francesi in quella circostanza Franzi Francesi che fra l'altro io reputo bravissimi però in quella circostanza si vede che è stato provato troppo poco poi dopo Tozzi uguale stessa cosa Tozzi c'era Tozzi perché non l'ho sentito e visto troppo diciamo nell'incontro con i Coloss poi gli altri in questo momento non me li ricordo allora ultima cosa in assoluto per quello che avete percepito voi ci sarà una sesta riedizione Amadeus ma guarda l'ha detto ha detto no così tante volte in tante e così tante maniere che credo veramente ci sia cioè penso che sia determinato e secondo me è giusto dopo cinque anni è giusto cambiare dopo cinque anni è giusto aprirsi idee nuove e anche a gusti nuovi sempre rimanendo però molto aderenti al presente perché la forza di Amadeus è stata proprio quella di prendere il festival lì dove l'ha lasciato Baglioni che secondo me è la persona che ha fatto più innovazioni e portarlo avanti ed evolverlo e renderlo ancora molto più adeguato a quello che è oggi il panorama musicale italiano quindi onore ad Amadeus e onore a Baglioni che ha iniziato questo processo virtuoso a noi ti ringrazio sei stato come al solito gentilissimo e buona parte finale di San Revo a questo punto ah sì parte proprio perché abbiamo finito e noi prima o poi ci mettiamo in giro esatto anche per quest'anno è fatta grazie mille a voi ciao 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 arrivederci ciao ciao